bentornati ragazzi sono giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi dei gironi i gironi della champions league 2023 2024 che sono stati appena sorteggiati io tra l'altro devo sbrigarmi a registrare questo video perché devo uscire devo uscire sto sudando ragazzi io sto letteralmente sudando perché negli ultimi 20 minuti la mia temperatura corporea è salita probabilmente di una ventina di gradi infatti sono tutto rosso vedete no ovviamente sono rosso perché stamattina sono stato un po in spiaggia a prendere il sole senza la crema però sono rosso anche per anche per i sorteggi ve lo posso assicurare anche per i sorteggi ho fatto ho fatto la diretta che hanno seguito in 130 barra 140 di questo ne sono molto felice e chi ha seguito la diretta chi ha potuto seguire la diretta che sta ancora su youtube tra l'altro avrà potuto tranquillamente notare il mio la mia la mia ansia la mia la tensione che saliva piano piano in in me però alla fine ci è andata bene ragazzi ci è andata bene come come in occasione dell'ultima champions league quella della stagione 2019 2020 possiamo dire che che ci è andata bene poteva andare meglio poteva andare bene perché poteva andare meglio però poteva andare anche molto peggio basta guardare il milan il milan è capitata in un girone terrificante terrificante se non sbaglio con paris saint germain borussia dortmund e newcastle è il girone del della morte mi dispiace molto per i tifosi del milan è andata veramente male al milan non è andata non è andata particolarmente bene neanche al napoli in realtà più che altro perché è stato sorteggiato con il real madrid in seconda fascia e con l'union berlino in quarta fascia che secondo me è una delle squadre più ostiche della quarta fascia quindi non è andata benissimo al napoli diciamo non è andata benissimo forse le squadre italiane che escono meglio da questo sorteggio sono proprio lazio e inter il girone dell'inter non me lo ricordo bene non me lo ricordo particolarmente bene dovrebbe essere capitata con benfica salisburgo e benfica salisburgo e riazio sedad è possibile che comunque sono squadre ostiche sulla carta sono squadre ostiche però non c'è uno squadrone ok non c'è un vero e proprio squadrone come può essere il real madrid come può essere il bayern monaco come può essere anche lo stesso lo stesso atletico madrid io io considero l'atletico madrid uno squadrone soprattutto per come gioca cioè secondo me la lazio una squadra come l'atletico madrid la soffre particolarmente la soffrirà particolarmente perché l'atletico madrid è una squadra molto molto ben organizzata che si chiude molto bene e noi abbiamo visto negli ultimi anni quanto facciamo fatica contro le squadre che sanno chiudersi bene l'ultimo degli esempi è la partita di domenica sera contro il genoa ovviamente dobbiamo ancora migliorare sotto questo punto di vista il celtic è un'altra squadra che si chiude molto bene e riparte no quindi in realtà nella fortuna un po di sfortuna c'è stata diciamo diciamo che in seconda fascia poteva capitare qualcosina di meglio però la verità è che siamo stati sorteggiati con la squadra sulla carta questo questo mio commento rimane sulla carta sulla carta la squadra più semplice del della prima fascia ovvero il feinord e questo non possiamo assolutamente nasconderlo così come ci poteva andare peggio anche in quarta fascia perché potevi incontrare il newcastle potevi incontrare anche la rialzo sedad oppure il aspetta il galatasaray invece ti è ti è capitato al celtic che secondo me secondo me ci può stare è il gruppo del della vendetta il gruppo della vendetta a tutti gli effetti perché queste tre squadre atletico madrid celtic e feinord sono le squadre che ci hanno eliminato negli ultimi dieci anni di europa league se se vediamo bene no l'atletico madrid ci ha eliminato nel 2012 dai sedicesimi l'atletico madrid è quello di falcao e vincendo 3 a 1 all'olimpico e vincendo 1 a 0 a madrid il celtic ci ha eliminato dall'europa league nell'ultima europa league giocata giocata tra virgolette dalla lazio d'inzaghi quindi nella stagione 2019 2020 vincendo sia all'andata che al ritorno e il feinord ci ha eliminato lo scorso anno nonostante gli sconti diretti a sfavore ci ha comunque eliminato lo scorso anno e la partita in olanda contro il feinord mi è rimasta qui mi è rimasta qui la partita in olanda contro il feinord infatti volevo assolutamente capitare con il feinord non chiedevo altro non chiedevo potevamo essere sorteggiati anche con il real madrid in seconda fascia io volevo capitare contro il feinord proprio per una questione di rivincita per una questione di vendetta lo stesso discorso vale per atletico madrid ma soprattutto celtic perché anche le partite contro il celtic non mi sono andate giù quelle quelle di quelle del 2019 e quindi è a tutti gli effetti un un girone della vendetta un girone della vendetta a livello tattico ripeto poteva andare meglio a livello tattico perché celtic e atletico madrid sono squadre ben organizzate che si difendono molto che ripartono e sono squadre che tatticamente noi soffriamo noi soffriamo per il resto secondo me a questo punto tu devi passare secondo me la lazio a questo punto ha l'obbligo di passare il girone che sia da seconda o che sia da prima la lazio ha l'obbligo di qualificarsi agli ottavi di champions league secondo me secondo me perché la lazio non è inferiore né al feinord e né al celtic e secondo me se la potrebbe giocare contro l'atletico madrid ce la possiamo giocare contro l'atletico madrid è un girone molto simile a quello di tre anni fa con in prima fascia la squadra più semplice sulla carta che ai tempi era lo zenith in seconda fascia sicuramente poteva andare meglio il borussia dortmund ai tempi era una squadra molto forte soprattutto con holland e bellingham mentre in quarta fascia c'era eravamo stati sorteggiati con il bruges che sicuramente non era né la peggiore né la migliore della quarta fascia e quindi secondo me equivale al celtic di adesso quindi è un è un girone è un sorteggio più che altro sulla falsa riga di quello del 2000 del 2020 quindi posso ritenermi abbastanza soddisfatto soprattutto se poi penso alle trasferte perché da tifoso di curva faccio anche questi ragionamenti no io voglio andare a madrid volevo andare a madrid prima dei sorteggi voglio andare a madrid adesso a maggior ragione che siamo stati sorteggiati con l'atletico avrei preferito il bernabeu se devo essere onesto però non mi lamento non vi posso assicurare che non mi lamento e proverò anche ad andare in olanda sinceramente perché potrebbe esserci chi mi ospita quindi non è andata male neanche a livello di trasferte europee ma ditemi voi che cosa ne pensate nei commenti ovviamente di questi sorteggi mettete un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto noi ci vediamo successivamente ciao ragazzi forza lazio